Il nostro obiettivo nel segno dell'articolo 9 della Costituzione, che parla anche di valorizzazione dei beni culturali, è quello di renderlo luoghi vivi, luoghi aperti, soprattutto rivolti alle giovani generazioni. E quindi in questa dimensione, ripensando al grande concerto dei Pink Floyd di qualche decennio fa a Pompei, si rinnova l'esperienza della musica, della grande musica, all'interno del sito di Pompei. Ministro, un grande successo anche l'iniziativa del Frecciarossa, che va a Pompei, preso da tantissime persone. C'è chi addirittura lo vorrebbe più volte a settimana, insomma. Guardi, su questo tema c'è stata anche una certa falsificazione, perché il treno è sempre stato una volta a settimana. E le ferrovie, autonomamente, senza che io chiedessi nulla, ha deciso di prorogarlo e di renderlo qualcosa di permanente. Ovviamente, nei sistemi seri, fra persone serie, le cose vanno fatte passo dopo passo, mattone dopo mattone. Adesso si sta verificando il treno ogni settimana e mi dicono gli addetti alle ferrovie che è quasi sempre pieno, è sold out il treno ogni settimana. Se questo successo si conferma, probabilmente possiamo estenderlo anche a due, forse tre giorni a settimana. L'ultimissima, il successo del biglietto nominativo del Colosseo si può riproporre anche a Pompei. Cioè state pensando di inserire anche per il Parco di Pompei un biglietto nominativo, che al momento non c'è, ci diceva il direttore. Sì, ci stiamo ragionando. Come vede, le cose le stiamo facendo. Io le potrei fare un lungo elenco di cose che noi abbiamo fatto in appena un anno e che altri invece avevano lasciato sospesi per decenni nell'aria. Chi di voi mi segue con attenzione le sa queste cose. Grazie.